Buon venerdì dalla sala Sisal Wind City di piazza Trento 12 a Catania, ci siamo anche quest'oggi con Wind City Sport Weekend, terza puntata del contenitore di informazione sportiva legato anche ai suggerimenti delle quote delle scommesse per tutti coloro i quali ci seguono e sono appassionati a punto di scommessa. Andiamo a vedere il sommario, la scletta di oggi apriremo con la pallavolo, fino adesso abbiamo parlato poco di pallavolo, oggi invece dedicheremo uno spazio all'inizio alla pallavolo maschile e femmine di Serie 1, le principali squadre del volley nazionale, vedremo anche le quote delle squadre vincenti dei dispettivi campionati e poi vedremo anche alcuni impegni e le classifiche di questi due tornei principali. Parleremo poi di calcio, Serie A, Serie B e Serie C, come al solito le partite principali del turno con le quote più interessanti, ma avremo modo anche di così ampliare il discorso su quelli che sono i principali campionati professionistici dello sport nazionale in Italia e tra l'altro veniamo da una settimana in cui in Coppa Italia si sono registrate anche delle sorprese con squadre di seconda serie e terza serie che hanno avuto la meglio su squadre di Serie A e sono andate, sono passate agli ottavi di finale. Nella seconda parte apriremo con un collegamento che a me sta molto a cuore, con un amico o un collega, Peppe Di Stefano di Sky Sport 24, ci parlerà sia di Serie A ma ci parlerà anche della situazione che ruota intorno alla FIGC e al prossimo allenatore della nazionale. Andremo avanti con le multiple, le multiple che vi suggerisco ogni settimana, partiremo come di consueto dal calcio italiano di casa nostra con le partite principali più seguite in questo weekend tra Serie A, Serie B e appunto Serie C e poi calcio internazionale con i campionati europei principali, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia, anche qui avremo una proposta di multiple, vi suggerirò sperando che possa portarmi fortuna in questo weekend una multiple con diverse partite internazionali e poi chiuderemo nell'ultima parte con il basket sia italiano ma anche internazionale con la Serie A1 maschile che prevederà anche in questo caso una multiple che vi suggerirò e poi una presentazione diciamo su quello che è il mondo del basket americano, l'NBA con la situazione nella Eastern Conference e nella Western Conference. Ma partiamo con il primo argomento di oggi, vi dicevo la palla a volo, apriamo con uno degli sport nazionali più seguiti sicuramente dopo il calcio e dopo il basket ma a grande attenzione. Oggi vi voglio proporre quelle che sono le quote delle squadre che vinceranno, che sono quotate per la vittoria finale del campionato sia in Serie A1 maschile ma anche in Serie A1 femminile, le possiamo andare a esporre. In Serie A1 maschile vediamo che la squadra favorita è Perugia con una quota di tre, poi Civitanova a 3,25 e la stessa quota ce l'ha a Modena, Trento a 6 e poi via via tutte le altre, sicuramente queste quattro sono le squadre per quel che riguarda la Serie A1 maschile di volley più accreditate. Ci sono poi quote abbastanza alte per Verona a 25, Padova a 66. Comunque questo è quello che è lo specchietto delle quote vincente a Serie A1 per quanto riguarda Sisal Matchpoint. Passiamo invece alla Serie A1 femminile, tra breve vi darò anche contezza della classifica al momento in entrambi i campionati. Per quel che riguarda la vincente della Serie A1 femminile, favorita Conegliano e Novara con una quota di tre, mentre Scandicci è quotato a 5 per la vittoria finale, Modena a 9. Vi via tutte le altre ma anche qui ci sono quattro squadre che hanno i favori del pronostico rispetto a tutte le altre. Vi dicevo che in questi campionati c'è una situazione abbastanza chiara, soprattutto in quello che è la Serie A1 maschile con Civitanova che è in testa alla classifica con 26 punti, a seguire Perugia, Modena e Ravenna. La classifica soprattutto in vetta con Civitanova a 26, Perugia a 24 e Modena a 23 è molto corta e quindi tra l'altro nell'Urienne c'è un match importante che vede la capolista Civitanova impegnata a Verona, una squadra che comunque orbita nelle zone medio-alte della classifica. Per quel che riguarda invece la Serie A1 femminile, guida la graduatoria Novara con 22 punti e poi Conegliano 21, Scandicci 20. Anche in questo caso le prime tre posizioni sono molto, le tre squadre ai primi tre posti sono molto ravvicinate e peraltro il turno di questo weekend prevede la sfida fra la seconda e la terza in classifica ovvero la sfida fra Scandicci e Conegliano. Questo è per quello che riguarda il volley nazionale ma passiamo invece all'argomento che molti ci chiedono e per molti più interessante soprattutto per gli scommettitori non che il pallavolo, il basket, il tennis, il rugby che di volta in volta seguiamo, siano meno importanti ma si sa il calcio in Italia è lo sport che attira di più. Leggiamo invece quello che è il turno del campionato di Serie A, Torino-Atalanta, Benevento-Milan, queste sono le partite tra domani e dopo domani, Bologna-Cagliari, Fiorentina-Sassuolo, vediamo anche le quote come potete seguirci, Inter-Chievo-Verona, Sampdoria-Lazio, Crotone-Udinese Edellas-Verona-Genua, queste ultime due partite chiuderanno il turno appunto lunedì nei posticipi della Serie A. In Serie B invece vediamo che il turno prevede Brescia-Salernitana, Cremonese-Spezia, Foggia-Cittadella, Frosinone-Cesena, Novara-Empoli, Parma-Provercelli, Pescara-Ternana, Palermo-Venezia, Avellino-Carpi, Virtus-Entella-Bari, il Bari tra l'altro capolista della Serie B e poi chiuderà il turno lunedì Perugia-Ascoli. A proposito dei principali campionati nazionali vi suggeriamo le quote di Torino-Atalanta, sfida che si giocherà domani sera alle 20.45, favorito il Torino con una quota di 2.40, mentre l'Atalanta, il 2 dell'Atalanta, a 2.90, interessante anche la quota dell'Under 1.95 e dell'Over a 1.75. Andiamo a vedere invece quelle che sono le quote di Inter-Chievo-Verona, l'Inter favorita a 1.37, la vittoria del Chievo addirittura a 8.50, potrebbe uscire in questa partita una quota goal, ovvero che segnano entrambe le squadre, a quota 1.96. Chiudiamo con la Serie B questa prima parte di Win City Sport Weekend, Novara-Empoli, quota 2.90 per l'1, X a 3 e il 2 a 2.60, quindi favorito l'Empoli. Ci fermiamo per questa prima parte, torneremo dopo e partiremo con il collegamento telefonico. e vi accennavo in apertura. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Meshpoint e sono qui per dirti che con Scommesse On Demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente, per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista, e anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse On Demand, da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. è venuta a un sacco d'all men. Tornati in diretta per la seconda parte di Win City Sport Weekend in questo venerdì 1 dicembre apriamo subito con il collegamento telefonico che vi accennavo in apertura al telefono con noi c'è l'amico e collega di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano, buongiorno Ciao Ciccio, buongiorno a tutti voi Un piacere averti in collegamento, segui la Serie A, segui il Milan da vicino ma segui tutto quello che è lo sviluppo del calcio nazionale poi segui anche il Catania sebbene a distanza Assolutamente sì, speriamo che sia un'annata importante per il Catania E questo ce lo auguriamo tutti, ma a proposito di Serie A diciamo quest'anno le gerarchie sembrano un po' cambiate il Napoli sta facendo la voce grossa, la Juventus è un po' in difficoltà però diciamo che tu da vicino segui il Milan la situazione del Milan soprattutto nell'ultima settimana è cambiata drasticamente è cambiata drasticamente, è cambiato l'allenatore c'è stato questo tipo al tonio atteso un mese fa, inatteso negli ultimi giorni ma è stata una scelta societaria chiara anche con un pizzico di malizia la voglia è stata quella di dare in mano la squadra a Gattuso quando la squadra almeno avesse avuto un calendario leggermente in discesa così è stato, adesso spetta a Gattuso rimettere in cesto il Milan spetta ovviamente al Milan reagire e dimostrare di valere non tanto i 236 milioni di Euro così quest'estate ma quantomeno dare segni di risveglio perché per adesso, almeno in questa prima fase gli segnali ce ne sono stati davvero pochi Ecco ti chiedo, si vocifera in questi giorni che Montella appena esonerato dal Milan possa essere il primo indiziato a questo punto per la panchina della nazionale che vive un momento davvero difficile forse il più difficile dell'ultimo sessantennio la mancata qualificazione al mondiale peraltro abbiamo visto anche la foto di Ventura tranquillo a Zanzibar in vacanza è chiaro che gli scenari sono completamente cambiati ecco, il rifiuto di alcuni grandi allenatori quali Ancelotti secondo te come deve essere letto e soprattutto, come ti dicevo, Montella può essere un indiziato? Sì, sì, per me può essere Montella uno degli uomini giusti io credo che poi molto dipenderà a questo giro da Malagò a prescindere dal Presidente federale io ho un mio personale pensiero che se la federazione ha a disposizione cinque monete non deve metterle tutte sul commissario tecnico ma deve dividerle tra progettualità legata ai giovani perché poi si arriva ai grandi trionfi alle grandi delusioni ho le grandi debacle soltanto rispetto a quello che è seminato negli anni precedenti vedi la Germania, vedi la Spagna con metodologie di lavoro con applicazione al lavoro con dei tecnici pronti quindi io personalmente poi sai, bisogna capire davvero quello che ha detto Ancelotti bisogna capire quello che direbbe Conte o Allegri o altri quel che è certo è che Montella per il calcio che ha sempre desiderato esprimere nei propri club da Catania in poi potrebbe essere l'uomo giusto perché è giovane perché ha un bel profilo perché è apprezzato perché piace in giro per il mondo perché comunque ha quel così chiamato physique du role e perché poi ti potrebbe costare leggermente meno di quanto magari ti possa costare un big e con gli altri soldi tu potresti, ripeto investire sui centri federali sulle strutture sui tecnici all'avanguardia perché tecnico all'avanguardia non deve essere solo il commissario tecnico al mio modo di vedere ma devono essere anche i tecnici che allenano nei campi di feriferia le squadre giovanili si deve partire assolutamente da lì ma non è un luogo comune io sono convinto di questo Analisi lucidissima peraltro hai perfettamente ragione bisogna riformare e ricreare il giusto movimento attorno al calcio italiano credo bisogna rifondarlo appunto come dicevi tu dalle basi in chiusura ti chiedo potresti scommettere anche un euro su chi vinca quest'anno il campionato di Serie A su chi scommetteresti? io dico Napoli mi sembrano giusto mi sembrano ci siano tutti i presupposti sai quando le cose vanno in un determinato modo mi sembra che in questo momento le cose stiano andando in un determinato modo la partita di Udine non la vinci mai in altre circostanze la Juve non la perde mai 3-2 contro la Santa tutta una serie di cose che mi fanno pensare e propendere quest'anno per il Napoli poi vedremo quello che accadrà perché ci dimentichiamo sempre che mancano 23-24 giornate alla fine del campionato cioè ancora non siamo neanche al giro di Boa e 4-7-10 punti grandi squadri li hanno recuperati li hanno persi in un mese quindi figurati in 4 mesi però mi sembra il Napoli costruito quest'anno poi se tu mi dici nei prossimi 10 anni che vince di più ti dico la Juve ma da qui a giugno sembra che sia fatto un disegnino casualmente perfetto per il Napoli perfetto Peppe io ti ringrazio è stato come al solito lucidissimo e puntualissimo ci risentiamo presto in bocca al lupo per tutto e vedremo quest'anno grazie a voi ciao Peppe ciao grazie ciao ciao bel collegamento interessante con Peppe Di Stefano adesso è il momento delle multiple di ogni settimana i suggerimenti che vi do appunto per tutti coloro di quali sono interessati al mondo scommesse questa settimana per quel che riguarda il calcio italiano abbiamo un suggerimento di 6 partite che abbiamo così elaborato insieme all'amico Luca che ce l'ha mandata durante la settimana e lo abbiamo approvata e ve la suggeriamo subito in Serie A l'1 dell'Inter sul Chievo-Verona quotato a 1,37 così come l'1 del Bologna sul Cagliari quotato a 1,95 gol di Sampdoria-Lazio a 1,50 l'1x doppia chance di Verona-Genua quota 1,67 in Serie B Frosinone-Cesena 1,47 Parma-Provercelli 1 a 1,55 e poi l'Under 2,5 in Serie C nella partita Sicula-Leonzio-Paganese questo è il suggerimento per quel che riguarda il calcio italiano ma veniamo invece ai campionati esteri al calcio internazionale i principali campionati europei partiamo dalla Premier League andiamo a vedere quelle che sono le partite in programma durante il weekend tra domani e dopo domani la quindicesima giornata Chelsea-Newcastle Chelsea favoritissimo Stock City Swansea City Everton Huddersfield Town Leicester City Barley e poi Watford Tottenham con la squadra di Londra che gioca in trasferta e deve rifarsi della sconfitta maturata durante il turno infrasettimanale West Bromwich Crystal Palace e poi Brighton contro Liverpool altra sfida interessante con il Liverpool favorito e il big match della giornata arriva invece domenica tra Arsenal e Manchester United chiudono il turno Bournemouth contro Southampton e Manchester City primo in classifica super favorito contro il West Ham nel Monday Night vediamo invece alla Liga la Liga Spagnola campionato che vede il Barcellona protagonista al primo posto tra l'altro con buon margine di distacco sulle dirette rivali ovvero Atletico Madrid e Real Madrid Barcellona Celtavigo apre il turno e poi Atletico Madrid Real Sociedad Sevilla Deportivo La Corugna Atletico Bilbao contro Real Madrid turno un po' ostico per il Real sebbene sia favorito con una quota di 1,44 e ancora Leganes Villareal Getafe Valencia Eibar Espagnol Las Palmas Real Betis chiude lunedì la sfida tra Girona e Alaves in Bundesliga invece si giocherà la quattordicesima giornata Magonza Augusta Offenheim Lipsia Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Werder Bremen Stoccarda la capolista Bayern favoritissima contro la Nover in casa quotata 1,13 peraltro quota molto molto bassa Schalke a 0,4 Colonia Erta Berlino Entracht Francoforte chiude il turno Wolfsburg contro Borussia Menchengladbach chiudiamo il quartetto di campionati esteri con la Francia la Ligue 1 sedicesima giornata apre il turno il Paris Saint Germain in trasferta contro lo Strasburgo tra l'altro Paris Saint Germain reduce dalla vittoria in casa 2,0 contro il Troyes nel turno infrasettimanale e poi ancora Nizza contro Metz Lille-Tolosa Rennes-Amien Monaco-Angers Troyes-Gingamp Saint-Etienne Nantes con Nantes peraltro protagonista mercoledì della vittoria sul Monaco Cain-Lione e sfida della domenica sera tra Montpellier e Olympique Marsiglia vi dicevamo che a proposito dei campionati esteri i principali campionati europei vi suggeriamo vi suggerisco questa è la multipla che ho elaborato per questo weekend andiamola subito a vedere quota 1,98 per il gol tra Leicester City T.E. Barley e poi il 2 del Tottenham che deve riscattarsi dalla sconfitta in casa subita fuori casa proprio martedì nel turno infrasettimanale il 2 quotato a 1,70 e poi l'1 dell'Atletico Madrid sulla Real Sociedad 1,48 Leganes-Villareal gol a 1,93 anche quest'altra quota molto molto interessante ancora Bayer Leverkusen Borussia Dortmund over 1,40 Monaco-Angers 1 a 1,36 Nizza Metz 1 a 1,43 per una quota totale di 30,30 quindi con 10 euro potreste vincerne 300 vi auguriamo che possa portarvi fortuna se così sarà poi nella prossima puntata avremo modo di ribadirlo e questo è il suggerimento del calcio internazionale veniamo all'ultima parte il basket il basket di casa nostra con la Serie A1 che vede Serie A1 di basket maschile che vede in testa in graduatoria la classifica Brescia con 16 punti segue Venezia con 14 Avellino Milano e Torino con 12 punti quindi un po' in ritardo l'Armani Milano che è la squadra favorita per la vittoria finale del campionato andiamo a vedere i due suggerimenti delle partite principali proprio Milano protagonista nella prima in trasferta a Reggio Emilia contro la Palla Canestro Reggiana testa a testa favorito chiaramente Milano 2 a 1,50 la Reggiana invece a 2,47 nel testa a testa con handicap vediamo l'1,85 testa a testa con 4 punti e mezzo di handicap per Milano 1,85 sia per l'1 che per il 2 quindi noi propendiamo e lo vedrete anche dalla multipla che vi daremo per il 2 con handicap in favore di Milano altra partita interessante del turno è la squadra tra la rappresentante siciliana in Serie A l'unica rappresentante siciliana ovvero l'Orlandina basket contro Trento testa a testa favorita l'Orlandina a 1,77 mentre il 2 a 1,98 la vittoria con handicap di 2,5 dell'Orlandina è quotata a 2 mentre se Trento dovesse subire una sconfitta con meno di 3 punti è quotata a 1,73 o addirittura se dovesse vincere chiudiamo proprio con la multipla che vi diamo per il basket di questo turno basket italiano 2,28 la vittoria dell'Umana Venezia vogliamo puntare un po' più in alto con una quota oltre il 2 il 2 di Venezia contro Avellino e poi l'1 con handicap di 8,5 di Bologna contro Cremona l'1 è il testa a testa tra Pesaro e Varese 1,77 e poi la vittoria appunto dell'Orlandina contro Trento a 1,77 anche questa chiudiamo con il 2 con handicap di 4,5 di Milano sul campo della palla canestro regionale lo vedavamo poco fa per chiudere la puntata di oggi vi diamo qualche breve notizia sul basket NBA che continua a interessare a far gioire i tifosi del basket americano sono tantissimi peraltro basket seguito in tutta Europa e anche in Italia nella Eastern Conference guidano i Boston Celtics con 19 vittorie mentre nella Western Conference gli Houston Rockets sono primi con 17 vittorie per gli Atlanta Hawks di Marco Beinelli l'unico rappresentante italiano nel basket americano c'è una situazione di classifica molto molto complicata addirittura al penultimo posto con solo le 4 vittorie ma auguriamo a Beinelli di potersi rifare con i suoi Atlanta Hawks peraltro nel basket americano vi ricordiamo che si gioca ogni 2 giorni sempre durante la notte per quel che riguarda l'orario italiano nelle prossime puntate vi daremo anche qualche suggerimento su qualche partita più interessante soprattutto durante il weekend o durante la settimana sempre nel mondo NBA con questa notizia noi chiudiamo vi ricordiamo che durante la prossima settimana si giocherà l'ultimo turno di Champions League con le squadre italiane impegnate con Roma Juventus e Napoli la Roma ormai è un passo alla qualificazione così come la Juve mentre il Napoli deve sicuramente vincere in casa del Feyenoord e sperare che il Manchester City batta lo Shakhtar Donetsk per poter accedere agli ottavi di finale noi chiudiamo qui con quest'ultima notizia Win City Sport Weekend torna sempre venerdì sempre alla stessa ora 22.30 su Radio Studio Centrale e 22.45 su Tele One appuntamento alla prossima settimana Grazie a tutti Grazie a tutti.